Mio tifo azzurro! Fuori ora! Informazioni urgenti! Appena arrivato! Possibile arriva al Napoli, i tifosi impazziscono per questa notizia, non crederai al possibile arriva in azzurro. Ma prima di darvi questa noizia, iscrivetevi già al canale per non perdere lo svolgersi di questo possibile arrivo, perché so aggiorneremo su tutto in prima persona. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Ficaies, Giordi Alba è oggetto di interesse del Napoli per una possibile mossa del prossimo anno. I giganti della Serie A stanno cercando di ingaggiare il veterano difensore del Barcellona nella finestra di mercato di gennaio per rafforzare le loro prospettive di vincere lo scudetto. Giordi Alba è attualmente al suo secondo periodo al Barcellona, tornando al Camp Nou de Valencia oltre un decennio fa. E in quel periodo si affermò come uno dei migliori terzini della sua generazione. Ma i livelli di performance di Alba sono notevolmente diminuiti negli ultimi anni. Il 33enne è scivolato nella gerarchia del Camp Nou in questa stagione, riuscendo a iniziare otto partite. E con il contratto di Alba in scadenza tra poco più di 18 mesi, si trova ad affrontare un futuro incerto all'FC Barcellona. Questa situazione ha catturato l'attenzione del Napoli. I giganti italiani sono in ottima forma in questa stagione, scalando la vetta della classifica di Serie A dopo un inizio di campionato senza sconfitte. Il Napoli si è qualificato anche per gli ottavi di finale di UEFA Champions League piazzandosi in testa al gruppo A, davanti al Liverpool. Ma il partenopei potrebbe entrare nel mercato dei rinforzi nella finestra di mercato di gennaio. Parla azzurro tifoso, secondo te il Napoli dovrebbe investire per Giordi Alba il 2023? Ho dato la tua opinione e non ho commentato in alcun modo quando sei arrivato al punto in cui era possibile arrivare in azzurro.